Come qualsiasi cosa nella vita, la giustizia, fare una valutazione richiede una preparazione. Quindi se la facciamo da un punto di vista strettamente personale, quindi arbitrario, possiamo sbagliare. La giustizia non ha a che fare con l'animosità, la rabbia. La sete di giustizia è un impeto che ti spinge a impegnarti in forma costruttiva, organizzata, progettata, secondo specifici parametri, per risolvere un problema, perché di fatto l'ingiustizia non è altro che un problema, un disequilibrio. Quindi l'animosità col disequilibrio non c'entra nulla. Un ingegnere che progetta è felice, ma non è che deve mettere la musica, ballare perché sta facendo il progetto, lo deve fare professionalmente, ne gode interiormente, ma l'espressione emotiva se oltrepassa certi limiti diventa non solo inutile ma anche deleteria, maggiormente se poi entriamo nel campo dell'aggressività. Quindi reagire fatto per fatto, quindi la singola persona di cui tu sei testimone che sta compiendo un atto ingiusto può anche essere utile nel senso se quella persona sta arrecando un danno reale grave è giusto bloccarla. Ma il bloccare una persona non risolve un problema, ci deve essere un cambio di base della società, perché noi compiamo ingiustizie soprattutto perché siamo ignoranti. Se già le persone, quindi anche i malvaggi, comprendessero la natura della legge di causa-effetto, non farebbero più il male perché è stupido. Ad esempio io uccido una persona, perché così penso da ignorante che risolvo un problema, conquisto un posto in politica piuttosto che del denaro, ricchezze, ma il karma mi costringerà quella persona a rincontrarla, a compensare quel debito. Quindi cosa l'ho ammazzata a fare? Ho solo allungato il tempo della sofferenza della mia esistenza e non ho risolto nulla. Quindi un lavoro che riguardi un vero atto di apporto, di equilibrio e quindi di giustizia alla società deve essere un fatto progettato e organizzato, se no diventa a volte solo l'espressione, ovviamente non voglio entrare nel termine e nel giudizio di quello che fai tu, cara, come ti chiami? Yolanda. Dobbiamo capire che certe nostre pulsioni non sono l'espressione personale della nostra natura, devono essere per forza un'aggregazione di forze organizzate con progetti seri fatti in un certo modo per erodere alla base, nella causa, il problema. Perché se io reagisco al cattivo agire di una persona va bene, ma poi quando io non ci sarò e quella persona non ci ha capito nulla, lo rifarà. Quindi non ho risolto il problema. Per cui il mio istinto di giustizia lo devo organizzare, lo devo progettare e lo devo realizzare in un contesto di largo respiro della società. Perché se ciascuno di noi diventa il giudice, il carnefice del cattivo agire e del prossimo, facciamo un grande caos, però siamo ignoranti noi ed è ignorante quell'altro. Quindi in tal senso l'arimosità è anche giusta se è percepita ed espressa non come ira, ma come sete di giustizia, come passione. Ma l'aggressione alla persona che non ti capisce e l'aggressione mia, che magari sono ignorante, non so nulla di leggi universali, di Dio, alla fine non risolvo nessun problema, perché il problema lo risolvo attraverso l'educazione e la corretta informazione, se voglio che quel problema non si verifichi più. Quindi fino a che un numero sufficiente di esseri umani non deciderà, primo, di istruirsi e quindi di non operare così a livello di opinione personale, ma sulla struttura di una reale conoscenza scientifica delle leggi universali. Quindi ci organizziamo, ci coalizziamo, ci finanziamo, investiamo del tempo in un progetto strutturato secondo la vera scienza dello spirito, noi muteremo nell'arco di un certo tempo la società. Ma se continuiamo a fare il povero contro il povero, mentre il ricco gode del dividi e timpera, non ne verremo a capo, perché l'azione ingiusta del popolo, del singolo appartenente al popolo, è fondamentalmente un'azione di frustrazione e di ricerca di un qualche cosa che il ricco mette come appetitosa carota, ma è solo una piccola briciola della grande rapina che operano sulle nostre vite. Quindi una vera azione di giustizia è prima di tutto un'azione di rinnovamento della cultura, della società e quindi del popolo, perché lo schiavo, lo sfruttato, il vilipeso, il calpestato è il popolo. Poi su vari livelli, noi siamo il popolo che gode quello occidentale, ma fino a un certo punto, perché comunque sappiamo tutti che possiamo anche avere il cibo, i vestiti, la casa, ma dopo la nostra vita è piena di un sacco di dolori e sofferenze, perché da ignoranti non sappiamo gestire le cose della vita, i sentimenti, le relazioni, cioè facciamo tutto a casaccio, siamo come un pazzo che si è comprato un'automobile, si mette in strada, ma non ha mai preso la patente, non sa guidare, non conosce il codice della strada, vai sbattendo a destra e a manca, con mille sofferenze. Quindi il nostro problema, la causa della nostra situazione è l'ignoranza. Quindi prima di metterci a fare qualsiasi cosa, come è normale nel mondo del lavoro, non puoi inventarti il lavoro. Io sento nel mondo della spiritualità alternativa delle emerite, sciocchezze, idiozie, tipo, ma c'è il maestro interiore. Ma se c'è il maestro interiore, nell'ambito delle scienze dello spirito che sono molto più complesse dell'ingegneria o del diritto o della medicina, ma allora c'è anche l'ingegnere interiore, c'è l'avvocato interiore, il meccanico interiore, a che serve andare a scuola? Quindi follie, c'è il maestro interiore, ma che cavolo stai dicendo? È vero che noi dobbiamo realizzare il Cristo interiore, ma come realizziamo il Cristo interiore? Mettendo in pratica l'insegnamento che Cristo ci ha dato, che è il maestro. Non puoi realizzare il Cristo interiore traendolo da te. Chi accetta questo dimostra di non aver ragionato, cioè di aver preso un concetto apparentemente bello, apparentemente di libertà, in realtà è un altro concetto di schiavitù, dove tu da ignorante sei la guida di altri ignoranti. Per diventare sapienti ci vogliono maestri. Questo è un dato di fatto. Quindi il percorso, prima di tutto, nel mentre che noi comunque coltiviamo la passione e l'amore per la giustizia, deve essere un processo di crescita personale nella conoscenza delle scienze spirituali e sociali che ci insegnano queste civiltà che il problema lo hanno risolto da milioni o addirittura miliardi di anni. Quindi, noi purtroppo come popolo siamo dei bambini e veniamo continuamente istigati all'espressione emotiva, perché l'espressione emotiva è irrazionale. Io vedo milioni di italiani che aspettano la domenica per la partita di calcio. Mentre c'è la partita gridano, urlano, magari litigano, fanno gli arbitri, fanno i giudici, fanno di tutto. Poi finisce la partita e tutta la settimana si parlerà della partita fino alla partita successiva. Ora, io vorrei sapere in, quindi il calcio nasce subito dopo la seconda guerra mondiale, quindi diciamo dagli anni 50 sono 70 anni di calcio. Io voglio chiedere al di là dei professionisti del calcio ma nella casa del popolo, quale vantaggio reale ha portato nei tuoi problemi di famiglia il fatto che la tua squadra del cuore ha vinto lo scudetto, la Champions League o qualcos'altro. Siamo un branco di pazzi che tutti pensiamo di vivere un grande amore e invece ci siamo solo masturbando, cioè non produciamo nessun figlio. Ma questo è il grande inganno dal quale dobbiamo sottrarci perché la manipolazione di quel bellissimo sport è fatta per dominarci dove problemi gravissimi come il debito pubblico o la natura, la truffa della trasformazione della moneta da istituto di diritto pubblico in istituto diritto privato non hai tempo di ragionarci sul tuo grave debito che magari un giorno ti porterà a spararti sulla testa, se tutta la settimana c'hai il cervello pieno di questa emotività fine a se stessa che non produce nulla di reale se non un sacco di soldi in quei 22 cretini ignoranti come le capre che tirano calci a un pallone super pagati. questa è la verità mentre tu ti spacchi la schiena magari in un lavoro di merda del francesismo e quelli godono della tua stupidità questo siamo noi scusate la lungaggine ah una cosa volevo dire io non vorrei che si percepisse che odio la religione o i preti o il papa io amo la chiesa ma la chiesa che è santa perché l'ha fatta il nostro signore è stata invasa da un branco di criminali e purtroppo nella sua maggior parte non sta svolgendo la missione per la quale Cristo l'ha istituita che è istruire il popolo sull'insegnamento del maestro non baciare le chiappe del maestro noi siamo così pazzi che come uno studente universitario che si è fatto l'altare del professore c'è la statua del professore adora il professore prega il professore professore mio ma quanto sei bello ma quanto ti amo tu sei il migliore sei il migliore ma poi non studi vai all'esame bocciato perché sei ignorante la religione è uguale sono belle le funzioni la messa è straordinaria il fervore religioso bellissimo ma dopo la nostra vita degli insegnamenti di Cristo è lontana un miliardo di anni luce noi non viviamo secondo la legge viviamo contro la legge siamo bugiardi egoisti adulteri facciamo schifo e i problemi della società non sono causati dai potenti i potenti sono solo lo specchio del popolo che li nutre appena il popolo sovrano deciderà di chiudere il rubinetto quelli cascano giù come le mele marce siamo noi e li manteniamo in vita rimanendo collusi essodali con un sistema criminale consumista ed egoista oltre che privo di conoscenza quindi io amo la religione la chiesa è santa sono cattolico ne vado orgoglioso ma deve essere ripulita la chiesa così come deve essere ripulita l'economia così come deve essere ripulita la politica perché chi soffre siamo noi non loro loro stanno bene hanno i pasti gratis e glieli paghiamo noi quindi viva la religione viva la chiesa viva il papa ma devono questi signori che governano la società in tutte le istituzioni devono essere uomini saggi e pieni d'amore non mostri disumani che ci uccidono e fanno carneficina della nostra vita e dei nostri figli